Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Feri ASMR grazie per aver scelto questo video chiacchiericcio di rilassamento oggi voglio accompagnarvi verso il sonno con un video in whispering quindi un video in cui utilizzerò questo tono di voce sussurrato e nel frattempo farò dei trigger molto leggeri con questo baggetto che in pratica è una scatolina a forma di cuore ed è molto molto particolare qui sono attaccate delle conchiglie e si possono produrre diversi suoni rilassanti qui c'è una sorta di stoffa in perluto e poi dentro questo ve lo faccio vedere dopo intanto se l'idea di questo video vi piace mi raccomando lasciate un bel mi piace e tu dico a te se ancora non sei iscretto o iscritta a questo canale puoi farlo adesso cliccando il pulsante qui sotto e naturalmente la capa di lina per non perdere i prossimi video rilassanti bene come ogni video chiacchiericcio che si rispetti questo inizierà con i saluti ma lo facciamo dopo l'intro mi sono accorta che le cuffiette qui davanti davano un po' fastidio quindi le ho nascoste dietro ai capelli allora 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 saluto cinque persone a caso tra quelle che me lo hanno richiesto mi raccomando se volete essere salutati ci sono due modi il primo è essere abbonati al canale trovate tutte le informazioni qui sotto se cliccate il tasto abbonati naturalmente ci saranno tutte le info, tutte le spiegazioni per sostenere il canale oppure chiedermelo sotto uno di questi video chiacchiericci ed io nel video chiacchiericcio successivo sceglierò cinque persone totalmente a caso e in questo caso tra l'altro sono auto-ipnotizzata da queste occhie che ne pensate sono carine? utili per fare un po' di scratching secondo me allora saluto sfinx93 e l'ultima notifica di instagram che in questo caso è di jerry doppiacch o doppiacch ma penso a doppiacch bene 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 come state? oggi è una giornata un po' particolare per me infatti mi sono resa conto di alcune cose che devo ancora elaborare però sapete quando avete come delle illuminazioni improvvise delle epifanie però ancora non avete veramente compreso il senso dell'illuminazione sì so che mi risulta un po' strano ma a me capita continuamente piccolo momento spot sto registrando con un ring light della quale vi mostrerò delle foto perché devo per forza che mi è stata inviata da un'azienda un venditore amazon e ho accettato la collaborazione perché fa sempre comodo avere una ring light in più e vi mostrerò questa la cosa particolare è che si possono cambiare i colori dell'anello per esempio così abbiamo una luce credo calda no forse neutra vediamo un po' questa è una luce blu questa è una luce fredda che però sembra sempre uguale a quella di prima perché evidentemente quella di prima è quella neutra e non quella calda questa è una luce calda invece poi abbiamo un azzurrino molto chiaro carino questa sembra rilassante vediamo gli altri oh rosso verde bella verde facciamo tutto il video così che ne pensate blu viola il viola mi fa un effetto strano sul volto gialla carina questa anche questa è una delle mie preferite è un giallo verdino in realtà questo è un giallo più giallo invece anche se dalla videocamera sembra arancione rosa che è quello del viola e basta dicevo vi lascio le clip sicuramente le avrete viste o le starete vedendo in questo momento e giù è giù nell'info box un codice sconto per voi se volete acquistarla vi avverto che ha il treppiedi che la mantiene molto basso infatti io mi sono arrangiata qui a sistemarlo su delle scatole non avendovi meglio ma vabbè dettagli bene manca pochissimo alla fine del mese anzi no quanto voi starete vedendo questo video sarà già l'inizio del mese eh sì perché sarà il 3 settembre però manca ancora qualche giorno adesso che lo sto registrando e quindi non so bene quando saluterò gli abbonati se nel video prima di questo oppure nel video successivo a questo devo ancora capire bene io amo complicarmi la vita facendo cose strane e comunque io ho promesso che vi farò vedere che cosa c'è all'interno di questa scatolina ed è qualcosa di veramente significativo e importante per me però aspettate ancora un pochino e cercate di resistere tra l'altro qui ci sono altri generi di conchiglie io non amo molto le conchiglie a dire la verità prima mi piacevano però poi ho iniziato a non lo so vederle in modo un po' diverso e quindi hanno spesso di piacermi però questo oggetto è veramente importante per me perché è stato un regalo un regalo fatto da una delle mie migliori amiche del liceo non sono l'unica ad avere questa scatolina ma ce l'abbiamo in tre cioè la ragazza che ce l'ha regalata io e un'altra mia amica insieme eravamo un trio inseparabile poi diciamo che le strade con il tempo ci hanno un po' divisi divise oggi non riesco a parlare però con una di queste ragazze sono ancora in strettissimo contatto mentre con l'altra a cui voglio comunque tanto tanto bene mi sento un po' meno e e niente in questi giorni forse se avete visto il mio instagram ve ne sarete accorti mi sento abbastanza ispirata nel dare dei consigli cioè così amorosi o comunque sulle relazioni affettive ora come dice il mio cantante preferito si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio quindi non mi piace davvero dare consigli e non richiesti però tantissimi di voi proprio tanti 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 mi scrivono chiedandomi in privato dei consigli soprattutto su instagram e ovviamente non riesco a rispondere proprio a tutti perché comunque non è quello il mio lavoro però mi farebbe piacere qualche volta condividere dei pensieri che possono anche essere utili no e naturalmente sono aperta al dialogo al confronto se non la pensate come me magari potete scrivere sotto ai vari post che avete un'idea diversa e ultimamente appunto facevo delle riflessioni sull'amore e sono sempre più convinta e diciamo che le mie epifanie varie ed eventuali riguardano anche un po' questa cosa che ci si debba fortificare veramente tanto in modo da saper scegliere se stare o non stare in alcune situazioni complicate spesso i rapporti affettivi quindi non per forza relazioni amorose parlo anche di amicizia e di rapporti familiari spesso ci portano all'interno di dinamiche tossiche che non vanno per niente bene per la nostra salute mentale ma neanche per quella fisica e non so per quale motivo ma tendiamo a convincerci forse a causa del nostro istinto di conservazione o comunque alla nostra tendenza a mantenere lo status quale nelle cose non lo so tendiamo a convincerci che alcuni comportamenti siano usuali e giustificabili ma in realtà credo che l'amore non faccia mai male un tempo qualcuno diceva che l'amore fa rima con dolore senti che bello per me non è così per me se l'amore fa stare male non è amore allo stesso modo un'amicizia che ci fa soffrire non è una vera amicizia e è così appunto anche all'interno della famiglia quando le dinamiche diventano troppo scure si instaurano dei meccanismi quasi perversi non è il caso secondo me di continuare a perseverare nei rapporti ovviamente alcuni legami non possono essere recisi perché magari sono legami di sangue oppure legami molto datati no? però è il caso di crearsi delle isole personali di salvaggia credo e di farsi forza fortificarsi e cercare di venirne fuori facendo leva su se stessi non capisco perché perché ci si debba accontentare di vivere dei rapporti non sereni e ci tengo a sottolineare questa cosa quando parlo di rapporti non sereni non intendo rapporti in cui si discute si dialoga si analizzano i problemi questo penso sia invece fondamentale anche e soprattutto all'interno di rapporti funzionali ma intendo proprio rapporti che ci fanno stare tanto male che che ci fanno avere paura che ci fanno avere con angoscia o con timore le giornate tutto questo è estremamente nocino e sbagliato questo coricino è rosso come l'abbiamo all'interno vi confesso che il tema amoroso mi è venuto in mente guardando l'argentino dei trigger che ho scelto per questo video amore affetto banale no? sembrerebbe sempre trainante ah tra l'altro non c'entra niente ho scritto una canzone e ho scritto una canzone e vorrei tanto provare a musicarla produrla cantarla però non so se qualcuno di voi mi possa aiutare perché vorrei veramente fare un progetto molto serio e ho anche degli agganci personali per quanto riguarda la produzione di musica però non so forse vorrei provare a non coinvolgere persone troppo vicine a me per questa cosa vediamo nel caso c'è tra voi un produttore di basi musicali o una persona molto 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 brava molto competente in materia che mi scriva questo per dire che sono stati giorni riflessivi giorni molto intensi in cui come sempre succede quando vado in esplorazione diciamo dentro di me ho prodotto qualcosa anche se in realtà non ha molto a che fare con cose che riguardano la realtà però c'è sempre un collegamento ecco mettiamola così con qualcosa che magari sto sentendo ovviamente romanzato e niente adesso aprirò questa scatolina e ti svelerò finalmente il contenuto guarda che bello allora all'interno c'è qui c'è un pezzetto di un cuoricino vedete e c'è un simbolo sopra che poi in realtà è una n al contrario non così non lo so come la vedete no è una parte di un cuoricino spezzato in tre parti cos'è terracotta non lo so vedete e su ognuna delle parti c'è incisa una iniziale e praticamente sono le iniziali di noi tre del nostro trio di amiche quindi io ho la n poi non so chi abbia la f e qualcun'altra ha la g ah certo c'è solo una combinazione possibile la c ha la f la n no si la c ha la f la n ha la g e io ho la n mi sono confusa all'inizio comunque è un simbolo no come gli antichi greci che spezzavano la moneta simbolon e poi quando si allontanavano e poi rigiornavano dopo lunghi viaggi potevano sempre contare sull'amico il proprietario dell'altra parte della moneta spezzata per garantirsi ospitalità e allo stesso modo no questo ha un significato di unione anche se forse vorremmo fare un tatuaggio noi tre siamo soprattutto in due che vogliamo farlo ma vedremo ci sta proprio bene questo curcino qui dentro vedete non so perché ma ecco ora si vede bene ebbene spero che questo video vi sia piaciuto per favore fatevelo sapere lasciandomi appunto un mi piace ma soprattutto un commento un segno del vostro passaggio leggete sempre la descrizione dove trovate anche il link per acquistare l'agenda ASMR di diario agenda ASMR che è disponibile anche su Amazon e nelle librerie e fatemi sapere se lo avete acquistato se avete iniziato a compilarlo eccetera eccetera ma penso di avervi detto tutto 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 e quindi se vi va ci vediamo come al solito nel prossimo video bacini fatosi buonanotte grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti